La chiesa di Santa Croce a Villa Sete è stata teatro della festa di Santa Barbara, patrona e protettrice dei vigili del fuoco e della marina militare, ma anche dei minatori che però hanno festeggiato la loro patrona nella loro miniera Real Monte. Fino a qualche anno fa si svolgeva lì la festa e la celebrazione della messa, poi per problemi di sicurezza si è preferito contenere gli accessi. Una festa importante per tutti noi, marinai, vigili del fuoco, ma anche per la cittadinanza e per tutte le famiglie che ci sostengono. Siamo qui insieme per festeggiare questa ricorrenza importante che ci vede uniti, come ci vede uniti la quotidianità del lavoro in questa provincia che ne ha tanto bisogno e quindi io ringrazio tutti gli uomini dei vigili del fuoco, della Capitaneria di Porto Guardia Costiera per questa loro attività preziosa in favore del territorio. Stamane è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio. Abbiamo svolto circa 6.000 interventi di soccorso nella nostra provincia di vario genere, sempre a supporto del cittadino, interventi quotidiani che vanno dagli incendi, agli allagamenti, agli incidenti stradali, al soccorso domestico. Ed è un'attività ovviamente prioritaria per noi, ma insieme a questa abbiamo anche attività di prevenzione, con i controlli presso le attività lavorative, i luoghi impianti, le attività industriali, artigianali e anche la partecipazione a numerosissime commissioni collegiali tecniche, per esempio la commissione per i locali di pubblico spettacolo. Un'altra iniziativa importante che abbiamo svolto è quella della diffusione della cultura e della sicurezza nel mondo del lavoro, con i corsi dedicati ai lavoratori addetti antincendio e soprattutto nelle scuole. Abbiamo raggiunto quest'anno 3.900 bambini e ragazzi delle scuole primarie con un'attività presso le scuole di informazione sui rischi di incendio e sui pericoli in genere a casa e a scuola. E in questa attività che ci impegna molto lavoriamo insieme ai nostri pensionati, la nostra associazione dei vigili del fuoco in congedo che sono molto attivi in questa provincia. Grazie a tutti.